Ennesimo e pericolosissimo incendio nel Terramano, di matrice quasi certamente dolosa, dalla mezzanotte di domenica scorsa le fiamme hanno divampato, aggredendo decine di ettari nel comune di Castellalto. Un inferno alimentato dal vento che soffiava forte e che ha spinto il fuoco fino alle abitazioni del paese. Evacuate decine di famiglie, persone che hanno trascorso la notte in strada con il sindaco di Castellalto Vincenzo Di Marco. Fortunatamente lo schieramento granitico degli uomini dei vigili del fuoco è riuscito ad impedire che il rogo aggredisse l'abitato. Nell'intervento sono state impegnate tre squadre, i vigili del fuoco di Terramo, di Nereto e l'Aquila, con autopompe fuoristrada con moduli antincendio e autobotti. Alle operazioni di intervento collabora anche una squadra di volontari dell'associazione Gran Sasso di Mociano Sant'Angelo. Alle prime luci dell'alba è giunto sul posto un Canadair che ha effettuato lanci nelle aree incendiate meno accessibili per le squadre a terra. Le operazioni di intervento saranno supportate anche dall'elicottero Orso Bruno messo a disposizione dalla regione Abruzzo. Sul luogo dell'incendio inoltre sono intervenuti i carabinieri forestali di Castellalto per l'accertamento di eventuali responsabilità. Il rogo è stato domato solo in tarda mattinata, anche se persistono punti ancora attivi. Il territorio terramano in questi ultimi mesi è stato martoriato e vittima di incendi dolosi. Pauroso quello della collina di Collurania in agosto, proprio alle porte di Terramo. Nessun colpevole è stato purtroppo individuato, né allora né oggi.